bella a tutti ragazzi con le pallette games oggi sono con bagnetti di giambiero bella gente siamo su minecraft ragazzi ora vi faccio vedere una cosa però c'è io ci vedo la cosa ora allora la casa è ancora un po che progress la dobbiamo continuare dopo decidere abbiamo fatto il progetto della ferrovia allora scendiamo prima mi fa salire poi fa scendere questa terra abbiamo messo solo per non fare entrare creeper i mob soprattutto i creeper aspetta un secondo concetto di questo è l'inizio ragazzi qua c'era abbam messa l'area nera come terreno per dare un colore più tipo più più cupo ragazzi come carbone più brutto allora qua ancora dobbiamo pensare dove porteranno qua ci saranno altre però il tetto e il muro lasciamo così non sappiamo come fare poi giambiero portaci qua è quasi finita ragazzi allora ragazzi la galleria è finita la galleria che abbiamo fatto per andare in miniera dobbiamo mettere ancora però tutte le ferrovie le ferrovie qua dobbiamo fare ancora il tetto come vedete è messo uno uno su uno giù su giù così e di legno da bete e della della pietra dei fattori di pietra questa miniere ci porterà qua sotto che siamo ci porterà qua qua continuerà e si ferma anche qua qua vogliamo fare una piccola base basa quando abbiamo decidere cosa farla qua qua ancora ragazzi dobbiamo fare tutto guarda non fare niente ragazzi qua ci ho messo io eppure io tante soprattutto io e così ragazzi che parta grazie allora io scavo qua e uno scava solo sono tante gallerie così abbiamo modificato non è che il spando giusto ragazzi infatti vediamo qua mettiamo qua possiamo cominciare a piccolare ragazzi sono trenta gallerie ragazzi sono trenta gallerie così qua è tutto nuovo possiamo trovare di avanti per migliora questa miniera che dove eravamo prima è tutta scavata anche quali vuoi il muro e il soffitto abbiamo ancora migliorare non sapevo come ragazzi ma ci è voluto un sacco di cinque ore per fare solo questo ragazzi io per fortuna che io ho messo la ferrovia e per fortuna vi sapevo 3393 che l'ho fatta quasi la stessa forse la stessa non mi ricordo bene io ho voluto fare come ha fatto lui che mi sembra la cosa migliore abbiamo visto anche i miei video che funziona come gallerie per trovare diamanti e cose quindi ragazzi abbiamo scelto di farla non dovete farlo via perché non ho avuto poi tempo che sono stato male io come avete letto nel video di di gta 4 vi ringraziamo perché è andato benissimo il video di gta 4 arriverà subito l'altro e prima possibile porteremo un altro video di gta pensiamo tra tre giorni uscirà un nuovo video di gta poi ragazzi c'è daniele che c'è la farm di lana allora ragazzi vi stavamo dicendo allora questa farm di peco la faremo la faremo la faremo lì là dietro grazie alla ferrovia e ci portano a dire ci saranno la farm di mucche maiali polli e di pecore la c'è la miniera e qua ci sarà la farm di canela zucchero cactus e verruga del neder e tutto quello che ci deve essere tutte fammi diciamo di grano in questo andiamo a dormire sapato la taglia una domenica cosa può fare voglio un miniero io già sono stati peccane pronto dovevo prendermi un primo cibo mangiare cose non ho accorto perché facciamo tra le liane eccoci allora eccoci qua ragazzi 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 un'altra cosa io volevo portare una serie che è sulle likey prison però non lo so se portarlo devo decidere dobbiamo decidere se si o no non lo so prendere fai del papa fai del papa forza ora andiamo un po in miniera che ci sarà tanto farlo per fare tutte le ferrovie perfetto abbiamo fatto un tocco da pane possiamo no no il 1 seconda e bravo più o meno allora ci farei panero certo adesso per sembra pagopa ma è vero c'è no cibo o ce lo ha per rasi allora questo quando non ho tutto io ci sconto quando venti se dipone le mucche bugare ragazzi un nuovo spacchiamolo le cilindro si vogliono i miei mangiatori allora iniziamo con questa l'aspettino aspetti anche l'anno 8.5 pop bellegno io ne ho un video vado a fare un po' di dolce sto rimando tu la vuoi no ce le ho allora come vuoi amma non lo carbone ce l'hai ne 26 pizzi eh ne ho poco di carbone devo fare tantissime dolce qua mi sembra che ce ne è un poco in questa sala dopo dobbiamo ricoprirla tutta infatti ragazzi spacco qua tanto possiamo ricoprire tutto qua perciò queste gallerie sono scavate per 12 a livello mi ricordo bene 12 e 13 e 15 non mi ricordo no io ci sono le torce ai ragazzi allora continuiamo no io ci sono le torce un valore mesmero libida il giudice la 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 ragazzi continuiamo un po' a scavare sono trovato solo redstone non serve a un cap sono sono sette nani, noi siamo due ne mancava sette cosa fare a mancare sette se noi siamo due ne mancava cinque non dove ho detto sette non sapevo che sono nove nani ragazzi cosa si scopre nella vita vaffanculo va allora non sto trovando niente oh redstone la prendi no lascia stella solo redstone e meno del ferro ragazzi ma come faccio a proseguire a noi ci serve del ferro a me la sporco a me la dà col piccani pietra ma che chiedettando ne abbiamo 4.000 stack di redstone ragazzi scrivete nei commenti se volete redstone noi ve la regaliamo no no questo non piacere ve la vendiamo ve la regaliamo basta c'è sta mezz'ora da aprirlo romperlo che devi aprirlo noio totale ecco la nostra ghiaia si è aperta tutta si è risotto no se si è aperta è la meglio o se il piccolo si divertiva certo noi siamo coperti con i diamanti perché no stiamo trovando io nel ferro ragazzi perché c'erano veramente tantissime ferrovie anche dell'oro beh ciao che bello lava anche dell'oro ci serve io mi metto shiftate ragazzi anche se noi ridiamo per la redstone ma la redstone non ci sarà noi se nemmeno 3.400 stack 5.000 sarà che sto dicendo 306 ragazzi ecco il ferro già abbiamo trovato il ferro veramente un po' di ferro ragazzi io trovo un po' di ferro io trovo un po' di ferro vabbè lo trovo lo trovo di diamanti come sempre effettivamente ma questo qua mi vorrei fare un po' un piccone di fare perché se trovo pure i diamanti poi non so come prenderli vai chiudiamo ragazzi mettiamo una doccia una doccia qua ecco carbone mi vado a fare un piccone di rivo qua a me lo faccio vedere questa direzione che abbiamo di troppo adesso non la puoi lasciare anche come dici tu non è che per fare un piccone di rivo non è meglio di rivo che per fare un piccone di rivo perché ci siamo i diamanti subito a noi per fare tutto quello che dobbiamo fare mamma mia ragazzi ragazzi tre diamanti ecco il king dei diamanti ma lei mi vado a trovare questa fortuna quale ha fatto ragazzi non mi ricordo ancora sono venuto non mi ricordo veramente secondo dovrebbe essere qua dove si scavare la prima quella di sopra ah eccola prendiamo i diamanti uno due tre quattro ragazzi quattro diamanti buono ok ragazzi possiamo continuare a scavare in cerca di diamanti perfetto possiamo continuare lapislazzoli ragazzi trovate del ferro ragazzi mamma mia tu ferro io lapislazzoli ecco del ferro due di ferro pochissimo però va bene chiudiamo altro ferro abbiamo chiuso a giampiero diamanti altri diamanti ragazzi c'è una fortuna di merda è ufficiale dove sono io a me lo trovo non io dove sei tu si si lascia sono io qua da me l'altro ecco sette diamanti mamma mia tutto se ti abbiamo si una pettorina una pettorina 8 di gambari ragazzi mi ricordo ci c'è c'è abbiamo dobbiamo andare con questo può possiamo fare di amari che posso fare di tutto pure spade come pure la zappa ragazzi allora ragazzi per questo video di minecraft è tutto vi ricordate di lasciare un like iscrivetevi al canale iscrivetevi anche al canale che trovate in descrizione di 24 tuoni di Datsus e Onibur e ragazzi mettetevi un like alla pagina facebook che il link è sempre in descrizione e ci vediamo in un prossimo video e ci vediamo in un prossimo video ciao gente